Buonasera a tutti e benvenuti al telegiornale di Canale 11. Iniziamo con la prima notizia da Bovisio Masciago. Domenica pomeriggio intorno alle 18 una donna si è tolta la vita gettandosi sotto i binari del treno in prossimità del passaggio a livello di Corso Milano a Bovisio Masciago. La vittima è una 51enne non residente in città che ha deciso di farla finita buttandosi sotto il convoglio che proveniva da Milano poco prima della stazione di via Roma a Bovisio. I passeggeri del treno sono rimasti sul convoglio per circa un'ora dopodiché scortati dai carabinieri e dalla polizia di stato sono stati condotti sul pulma messo a disposizione da Trenord che li ha portati nelle stazioni di Bovisio, Cesano Maderno e Seveso. Il tratto della ferrovia tra Palazzolo Minanese e Seveso in entrambe le direzioni è stato interrotto e i viaggiatori dei treni successivi hanno usufruito del servizio sostitutivo del bus navetta. Intorno alle 21 il traffico verroviario è tornato regolare. E ora andiamo a Desio. Si sono celebrati ieri pomeriggio nella basilica di Desio e funerali di Paolo Vivacqua. Il 51enne ucciso a colpi di pistola lunedì scorso mentre era nel suo ufficio in via Bramante a Desio. In molti parenti, amici o semplici compaesani hanno voluto dare l'ultimo saluto all'uomo originario di Ravanusa in Sicilia ma che da diversi anni viveva in Brianza. Prima a Desio e ultimamente a Carate Brianza. L'uomo è stato seppellito nel cimitero nuovo di Desio e intanto proseguono le indagini dei carabinieri che non escludono nessuna pista nell'attesa di dare un nome ai responsabili del fatto. Col passare dei giorni emergono sempre più particolari sulla vita di Vivacqua, imprenditori a cui erano riconducibili diverse società attive nel settore della compravendita di immobili e terreni e nel commercio e smaltimento di rottami. Al vaglio sia la pista di un omicidio scaturito nell'ambito del giro d'affari dell'uomo ma anche la pista della sfera privata. E ora andiamo a Monza, scoperta di scarica di rifiuti in Largo Segrino a Monza, in una zona di confine con il comune di Mugioa. A portare alla luce circa 2000 metri cubi di detriti e macerie è stato il nucleo di vigilanza ambientale della polizia locale. Gli agenti hanno rinvenuto il materiale in un'area destinata a deposito mezzi di una ditta che gestisce appalti per lavori stradali. L'intera superficie è stata posta sotto sequestro in attesa di conoscere gli esiti degli analisi dei materiali effettuati dall'ARPA per constatare l'eventuale presenza di rifiuti dannosi. Il reato contestato al titolare è quello di gestione illecita e deposito in controllato di rifiuti. E ora spostiamoci a Carate Brianza avviata la procedura di cassa integrazione per gli ultimi dipendenti della ditta Comerson, leader per anni nel settore della videosorveglianza. Qualche anno fa l'azienda contava 80 dipendenti, ora invece sono rimasti solamente in 15 per i quali è stata avviata una nuova procedura di cassa integrazione che garantirà loro uno stipendio fino a fine 2011, nella speranza poi che si riescano a ricollocare nel mercato del lavoro. Intanto il Tribunale di Monza ha accettato il concordato preventivo richiesto dall'azienda in liquidazione ormai dal 2009. E chiudiamo con l'ultima notizia da Renate, incidente durante la caccia per un ottantenne bergamasco. Ieri mattina a Renate in prossimità di Via Immacolato si è verificato un altro incidente durante una battuta di caccia che segue l'episodio di Besana Brianza di qualche settimana fa dove un cacciatore ne ferì un altro all'occhio. Questa volta il cacciatore coinvolto un'ottantenne proveniente da Villa Dada ha fatto tutto da solo. La dinamica non è ancora ufficializzata ma sembra proprio che il cacciatore durante la caccia sia inciampato. Cercando di rimanere in piedi il fucile imbracciato è caduto a terra facendo partire un colpo che era già presente in canna che lo ha colpito alla scapola sinistra. Il cacciatore non si è lasciato sopraffare dal dolore e ha avvisato il suo autista che ha chiamato i soccorsi. Nel pomeriggio l'uomo è stato operato alla scapola all'ospedale San Gerardo di Monza. E chiudiamo il nostro telegiornale ricordando quali sono le farmacie aperte questa notte nella provincia di Monza e della Brianza. Nel distretto di Brugherio sarà aperta la farmacia comunale 10 di Monza in via Ramazzotti 36. Nel distretto di Carate invece sarà aperta la farmacia Pennini SNC a Briosco in via Tribulzio 51. E spostiamoci nel distretto di Cesano dove sarà aperta la farmacia comunale 1 a Cesano Maderno in via Cantù 10. Nel distretto di Desio sarà aperta la farmacia Nova in via Brodolini numero 1. A Lissone invece sarà aperta la comunale 10 di Monza in via Ramazzotti 36. Nel distretto di Meda sarà aperta la farmacia Melchionda a Ceriano Laghetto in via Volta 14. E passiamo invece al distretto di Monza dove sarà aperta la comunale 10 in via Ramazzotti 36 a Monza. E nel distretto di Seregno la farmacia Tavorelli a Paina in via 4 novembre 71. Concludiamo con gli ultimi due distretti con il distretto di Vimercate dove saranno aperte due farmacie l'Ambrosiana di Lesmo in via Marconi 29 e la farmacia Burago a Burago Molgora in piazza Dondecio 1 barra C. Queste informazioni sono state gentilmente fornite dall'associazione Lombarda Farmacie che ringraziamo. Queste erano le notizie del telegiornale di questa sera. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.